Il Comune di San Severo è risultato beneficiario di un importante finanziamento comunicato dall'autorità di gestione del Ministero dell'Interno. Si tratta di un finanziamento pari a ben 4 milioni e 300 mila euro a valere su PON Legalità FESR FSE 2014-2020 per il progetto sperimentale di inclusione sociolavorativa. Il progetto Il Mosaico di San Severo prevede innanzitutto il recupero, la rifunzionalizzazione e il restauro dello stabile che si trova alle porte di San Severo abbandonato da anni e dove si trovava l'ex macello comunale per adibirlo al luogo per attività di inclusione sociale e per la promozione della filiera agroalimentare del territorio.